L'attrice Sadie Sink entrerà a far parte dell'MCU? Stando a quanto rivelato dal moderatore della sezione Marvel Studios Spoiler su Reddit, noto Insider, i Marvel Studios vorrebbero ingaggiare Sadie Sink per il ruolo di Melissa Gold, a.S. Songbird, in Thunderbolts. Thunderbolts uscirà nelle sale il 26 luglio 2024 e la Marvel ha confermato che oltre il cast già confermato ci saranno dei nuovi personaggi, quindi non è così tanto destudere la cosa. Il film parlerà di un gruppo di antieroi che si uniranno, in breve sarà la Suicide Squad dell'MCU. Songbird invece nei fumetti è questo personaggio che usa la propria voce come un'arma, infatti intonando delle melodie riesce a creare dei propri solidi da poter sferrare ai nemici ed altre figate fatte sempre con il suono della sua voce, come ad esempio riesce a sfruttare anche l'ecolocalizzazione. Il personaggio per è noto anche per le sue capigliature stravaganti, infatti ha dei capelli bianchi e lunghi con delle ciocche rosse o viola a seconda del fumetto. E l'acconciatura di Sadie Sink potrebbe essere perfetta per questo ruolo. In più l'attrice tornerebbe a recitare con David Harbour dopo Stranger Things, quest'ultimo infatti in Thunderbolts tornerà ad interpretare Red Guardian, ruolo che aveva già avuto in Black Widow. Inoltre Sadie Sink già lo scorso novembre durante un'intervista non aveva di certo nascosto la sua volontà di poter far parte delle MCU e avrebbe detto che se ci fosse stato un ruolo adatto per lei e le fosse arrivata la proposta di certo non avrebbe avuto motivo di rifiutare e che anzi chiunque sarebbe un paccio a rifiutare un ruolo della Marvel Cinematic Universe. Ancora non c'è nulla di confermato e si tratta di un rumor, ma che piacerebbe averla negli MCU? Seguimi per altri aggiornamenti e curiosità e teorie sulle serie tv e il cinema in generale.